Questo sistema politico che ha creato una società in crisi, che non sta in piedi, non si possono fare riforme, riforme scolastiche senza investire soldi, ma tagliando, è impossibile. Non si può creare una rete automobilistica a misura di cittadino, a misura di studente senza finanziarlo. Noi studenti ci siamo mobilitati negli ultimi mesi, decine di manifestazioni, occupazioni, siamo scesi a Roma, eravamo in tantissimi e siamo in tanti anche oggi da tutto il Veneto, Venezia, Padova, Vicenza, Treviso. Per ora, studenti medi da tutto il Veneto, insieme agli OpenAce, insieme ai comitati per i beni comuni, insieme ai centri sociali.